Teorema Audio Service, oltre ad essere un'agenzia di spettacolo, è anche un divulgatore di riti e tradizioni popolari nel nostro Salento. Sostato chiaro fermate minuti, io non ho rivolgo a chiun, come triste che vabbè ne domani. Mi sono innamorato di te, e mi adalaggiati, ma partire, o meglio amico mio, ti ha già incontrato, ma perché, ma che destino? Non che so, sincero, non fossi voler bene. Che hai nel tuo cuore sti parola, non te l'ha già detto mai, Amore Dio, che fai così per me, mi so connamorato di te, E mi adalaggiati, sto bene con me, adalori. E mi adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me. E mi adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me. E mi adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me. E mi adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me. E mi adalaggiati, sto bene con me, adalaggiati, sto bene con me.